The Lab è un corso di formazione per laureati, laureati di diversa natura, ingegneri, architetti, designer, scienze della comunicazione, per i beni culturali. Quindi è un approccio progettuale in un campo molto particolare, perché si tratta di ripensare tutto il sistema museale, tutto il sistema archeologico calabrese. Il corso sarà tenuto l'anno prossimo da febbraio a maggio e avrà come oggetto il sito archeologico di Sibari, quindi tutta l'attività che questi giovani laureati svilupperanno sarà orientata al nostro sito archeologico Sibari. L'obiettivo del corso è partire da un progetto che abbiamo realizzato all'interno di questo progetto che si chiama Redesign Calabria, di identità visiva e disegnaletica per il museo di Reggio Calabria, per il museo dei bronzi. I ragazzi studieranno quel progetto e realizzeranno insieme a Leonardo Sonnoli, che è il designer che ha realizzato questo progetto, un analogo progetto per Sibari, per l'area archeologica di Sibari. Questo nel quadro di un progetto di valorizzazione dei beni culturali utilizzando il design.